Scadrà nel prossimo mese di giugno il contratto collettivo nazionale di lavoro per i metalmeccanici che nel biellese sono oltre 2.000. Nelle scorse settimane i sindacalisti della CGL hanno incontrato i lavoratori in molte aziende del territorio per presentare la piattaforma contrattuale con cui andarsi a confrontare con i vertici di Confindustria sia a livello nazionale sia nel biellese. Oltre il 99% dei lavoratori e delle lavoratrici consultate hanno votato e sottoscritto le richieste presentate tra le quali un aumento di 280 euro lordi nei prossimi tre anni e la riduzione delle ore di lavoro a parità di salario da 40 a 35 gradualmente attraverso una riorganizzazione del lavoro. Ma non c'è solo questo, spiega Filippo Porcare, segretario della FIOM biellese. Si annuncia un confronto complesso perché presenteremo una serie di richieste ambiziose. Sarà dura portarle tutte a casa, occorrerà unità e determinazione da parte dei lavoratori. Con il rinnovo del contratto vogliamo mettere al centro il rilancio del lavoro industriale investendo sulla qualità attraverso l'aumento del salario, l'innovazione normativa per affrontare la transizione tecnologica ed ecologica aggiunge il sindacalista biellese. Promuovere gli investimenti e difendere l'occupazione è stata l'attività fondamentale in questi anni. Un contratto che promuove, che valorizza la responsabilità sociale promuove la riduzione dell'orario di lavoro, la stabilità ai contratti contro la precarietà garantisca occupazione e pari diritti nel sistema degli appalti. Un contratto di tutti e per tutti i metalmeccanici.